Il calcio è fantastico finché Per fortuna c'è ribellato Medical Group Parliamo di calcio, siamo in collegamento con Dario Sottovia, attaccante del Treviso Football Club Innanzitutto Dario, buonasera e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito Buongiorno, buonasera, grazie a voi Allora Dario, per prima cosa, tu sei uno dei giocatori delle prime conferme del Treviso Football Club per la prossima stagione Allora, come commenti le notizie che appunto ti hanno confermato? Sì, sono contento perché vuol dire che il lavoro che è stato fatto anche da parte mia per quanto riguarda il personale È stato ottimo perché insomma essere riconfermati in una piazza così importante come Treviso In una categoria importante come la Serie D Significa che si è lavorato bene Sicuramente dalla mia parte avevo i numeri però ripeto Grazie anche ai miei compagni e all'aiuto della squadra Mi sono profuso personalmente per raggiungere gli obiettivi Insomma, il lavoro è stato ripagato quindi sono contento Numeri dicevi tu e che numeri? Perché insomma nella stagione appena conclusa 33 marcature, non male affatto No, è stata la mia migliore stagione a livello numerico Anche se magari in un campionato di eccellenza che è differente magari della Serie D o della Serie C Che ho fatto in altre annate Però comunque sì, è stata condita da tanti gol importanti, determinanti E anche una decina di assist che insomma non disdegno E niente, ripeto, sono numeri importanti che probabilmente hanno convinto la società Il direttore che già conoscevo a confermarmi A darmi l'occasione di restare ancora in questa società In questa piazza che secondo me è la più importante Almeno nel nostro girone in questa categoria Adesso vi trovate ad affrontare appunto la Serie D Sicuramente sarà un campionato diverso da quello che avete affrontato Come ti appresti ad affrontarlo? Ma come tutti gli anni Sicuramente sarà un campionato più difficile rispetto a quello dell'eccellenza Sarà molto più equilibrato Ci sono molte squadre attrezzate comunque nel girone che andremo ad affrontare Però lo affronto come ho sempre fatto negli anni passati Lavorando, lavorando duro E cercando di migliorarmi ogni giorno Anche l'anno che abbiamo fatto la Serie C La vedevo come uno staccolo insurmontabile Alla fine feci una grande annata col sacrificio Con il lavoro che insomma ripaga quasi sempre Quello che tu vai a investire personalmente Ecco questo credo sia il segreto Almeno per quanto mi riguarda Mi conosco Se mentalmente sto bene Sto bene in un ambiente Devo solo lavorare per ottenere i risultati Che siano quelli comuni con i miei compagni Con la squadra, con la società Indubbiamente Sono cambiate Dario un po' di cose Al Treviso c'è il nuovo allenatore C'è il nuovo presidente Ecco tu hai avuto modo di conoscere le novità diciamo Sì 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 Ho visto che è stato cambiato qualcosa a livello societario Credo che anche a livello staff A livello dirigenziale A proprio quanto riguarda la prima squadra E anche storo giovanile Credo che sia una società che vuole crescere E che quindi dia a questa piazza Le persone che in questo momento servono Per affrontare quelli che sono gli obiettivi Ecco quindi credo si stia facendo Un passetto alla volta Per cercare di organizzarsi E migliorarsi sempre di più Per arrivare insomma Un giorno Spero presto Per questa piazza Dove questa società Per me merita di stare Insomma che Che non è sicuramente l'eccellenza La serie D Ma magari una o due categorie in più almeno Ecco Dario Al di là dei numeri Dei tuoi gol E dei tuoi assist I numeri non sono in discussione Ma sei stato definito Un giocatore Che è sempre presente Quando si tratta di promuovere Il movimento del Treviso Football Club Sia con i bambini Che con i tifosi Sì Diciamo che Forse dalla mia O che Qualche annetto Magari Ho lavorato Lavoravo in fabbrica Facevo l'operaio Quindi magari Per me comunque È un piacere Poter andare via liberamente Dove voglio Uscire Stare con i tifosi Con i bambini Cioè A me piace Mi piace stare in mezzo alla gente Parlo con tutti Vado d'accordo con tutti Quindi Sono felice Se la società mi chiede Perché magari Sono un po' apprezzato Proprio Magari Per queste Qualità che ho Di poter Fermarmi a fare due chiacchiere Con tutti E Sono ben disposto Ad accettare Quindi Magari a volte Il calciatore È visto un po' come Uno che sta Defilato in parte Ma non è così Insomma Ce ne sono tanti altri Come me Che fanno queste cose Quindi È una cosa piacevole Insomma Fa sempre piacere Vedere di bambini Contenti E magari di tifosi Che sono felici Di averti lì Anche solo per mezz'oretta Magari ecco La vedo così Certo Infatti tu sei molto Lontano dallo stereotipo Un po' caricato Diciamo Del calciatore Che come hai detto Tu sta un po' Defilato Se la tira un po' Diciamo Questo termine Tu anzi Sei molto alla mano Sei molto social anche Sì Sì C'è un senso Sono molto schietto E diretto Magari a volte In questo mondo Non è proprio La cosa che si dice In modo migliore Però Io sono fatto così C'è un senso Sono uno come gli altri Ho la fortuna Di poter fare questo lavoro Quindi Me la godo Insomma Verranno momenti In cui Le cose cambieranno E bisognerà fare altro Per me questo È il lavoro più bello Del mondo Perché Insomma È una passione È un divertimento Quindi Io sono sempre me stesso Quindi Non ho Non ho Musi Non ho Non ho Modo di tirarmela Perché Magari ad alcuni Può sembrare Che sia così Ma Ti assicuro Che non lo è Se no Insomma Non raggiungerei Neanche gli obiettivi Che raggiungo Quindi Sono così A volte Magari posso sbagliare Sicuramente E cedere in alcune cose Però Sono sanguigno Sono vero Quindi Quello che penso Lo dico E quello che Che voglio fare Penso di fare Lo faccio Quindi Sono un po' Come dici te Alla mano Insomma Credo sarebbe Meglio un po' Per tutti Essere così Anche se magari A volte C'è chi preferisce Tenere un po' Le cose In sordina Ma Ripeto Io vado avanti Per la mia strada Sono contento Sono felice Di fare Per ora In questo momento Questo tipo di vita È una fortuna Chiarissimo E dunque Per essere stato con noi Ringraziamo di cuore Dario Sottovia Attaccante Del Treviso Football Club Ciao Dario E grazie Grazie Ciao Ciao Beatrice Grazie a voi Massoterapia Il potere delle mani Un benessere profondo Prenotala da Rebellato Medical Group Prenotala da Rebellato Prenotala da Rebellato